Siete il sale di un mondo che ha bisogno di ritrovare il sapore di Dio. E' l'augurio che Papa Francesco rivolge alle migliaia di ragazze e ragazzi che fino al 2 gennaio sono a Praga per il tradizionale incontro di preghiera di fine anno organizzato dalla comunità Taizé. Una invasione di giovani provenienti da tutta Europa, dall'est all'ovest, sono arrivati a Praga in bus, treno, aereo, autostop. Tra questi giovani ortodossi, cattolici, protestanti, i più numerosi vengono dalla Polonia, dall'Ucraina, dall'Italia, Germania, Francia, Croazia e Bielorussia. Qualche cifra, più di 30.000 persone partecipano al raduno accolti nei quartieri di Praga, nelle città e nei paesi della regione. 65 i paesi rappresentati dai giovani iscritti senza contare i 1950 giovani volontari al lavoro da due giorni per preparare l'accoglienza e organizzare la logistica. Gli italiani sono più numerosi degli altri anni e sono il gruppo più consistente dopo polacchi e ucraini. Quello che ogni fine d'anno riunisce i giovani dall'est e dall'ovest europeo viene chiamato pellegrinaggio di fiducia sulla terra. Un percorso, indica il Papa nel suo messaggio, da vivere nella preghiera e nel dialogo reciproco. Attraverso il suo spirito che abita in noi, scrive il Papa e i giovani, Cristo vi dona di essere sale della terra perché vuole ridare al mondo il suo vero sapore attraverso la scoperta della bellezza della comunione con Dio e tra i fratelli. Nel 1990 il pellegrinaggio di Taizé faceva tappa nell'allora Cecoslovacchia. 25 anni dopo, nel momento in cui la Repubblica Ceca festeggia i 25 anni dal suo ritorno alla democrazia, non dimenticate nella vostra preghiera, scrive il Papa, i martiri e coloro che manifestavano la loro fede, uomini e donne di buona volontà che hanno permesso attraverso il dono gratuito di se stessi, talvolta a prezzo di grandi sofferenze, che il loro paese ritrovasse un cammino di libertà. Anche voi, prosegue Francesco, siete invitati ad aprire cammini di libertà donando voi stessi. Il Papa assicura di nutrire fiducia nell'immaginazione e nella creatività dei giovani di Taizé che permetterà al Vangelo di essere annunciato e ascoltato con gioia nei loro paesi. Francesco cita una sua espressione dell'Evangelii Gaudium quando parla dei giovani come viandanti della fede e felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra.